Abbiamo DJ Choke in console, Mephisto, State of Time, grandissimo, ciao Maurizio, è di qua, 20 fingers, tra poco lo lancia, notare alcuni dei miei di KC92, l'altro partito di Mephisto, abbiamo il mix era un po' vecchio, fate i bravi, non succede niente, non abbiamo un volume da rave, va bene, va bene, va bene, va bene, va bene, ci stiamo, grosso per DJ Master Master Blex, Shorty DJ, oh si, Shorty Grand, e ancora un saluto, Maurizio D'Ambrosio, ciao Mephisto, State of Time, grandioso, e Shorty DJ, con Super DJ Master Blex, ci siamo, c'è anche un video dei dos, se volendosi è finire di dire le miei, fantastico, un saluto anche se fai ste meglio, ai miei miei miei, se si sentono, l'abbiamo già fatto la settimana scorsa, lo pubblicheremo per voi, ciao miei miei miei, ciao ciao ciao, mai ciao tu, così.